Pronto? Venduto! No, è ancora disponibile Novanta, vengo a prenderlo No, non posso accettare così poco Ultimo! Cosa ultimo? Ultimo! Ah, il prezzo, no Cento parata No, 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 grazie, ciao, no E la prova in culo Pronto? Ciao, c'è Max Max chi? Max Ma ma chi? Omi Max Ma ma fa in culo Pronto? Ciao, 80 No, grazie Cento? No, no, grazie Novantacinque Ma che c***o Pronto? Salve, grazie di avermi risposto alla mia posta Allora, sono d'accordo per comprarle nel suo stato attuale Perciò io Sì, ciao Pronto Salve, scambi con un sellino della Bici Profit Master Più tre piastrelle del bagno No, grazie E quattro piastrelle invece? Pronto Ciao, ho disponibile il cellulare? Sì, sì, ce l'ho ancora Quando posso venire a prenderlo? Ma guarda, io sono qua anche domani Se vuoi venire non c'è problema Ok, che ne dici di trovarci in metà strada? Beh, dipende Non so, tu di dove sei? Casetta Fai conto che io sono di Verona E sarebbe attraversarsi quasi tutta Italia Non credo che sia molto conveniente per me Posso venire fino a Roma al massimo? Beh sì, Roma Comunque sono sei ore di macchina E' troppo lo stesso Ma cosa fai a annunci se non puoi neanche muoverti? Ciao, è disponibile? Sì Beh sì, la garanzia c'è Di sicuro Accetto anche Paypal perché è ovvio E chiaramente spedisco perché se no Non tu che cazzo vuoi vendere Oh, già un acquirente Ciao, il telefono è disponibile? Sì Hai garanzia? Sì, sì, sì Spedisci? Sì, l'ho scritto Hai Paypal? Sì Ok, grazie